E' prevista per domani pomeriggio alle 14 l'autopsia sui corpi di Giuseppe D'Emanuele Alabi, suo padre e figlio, morti a causa di un incidente aereo, mentre a bordo di uno stormo a 300 stavano sorvolando l'isola di Stromboli, direzione Foggia. L'autopsia è stata disposta dal sostituto procuratore della Repubblica del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Francesco Lomonaco. Le salme dovrebbero giungere a Gela sabato mattina. In Chiesa Madre sarà allestita la camera ardente. Per la partita di domenica prossima il Vincenzo Presti tra Gela e Profavara si darà un minuto di silenzio. La squadra bianca-azzurra scenderà in campo con il lutto al braccio. Intanto continuano a giungere in redazione messaggi di cordoglio per quanto accaduto. L'associazione sportiva direttantistica a Mogela ricorda la figura di Giuseppe Labbiso, sottolineando che Peppe non era semplicemente il presidente della Mogela, la società di calcio che fondammo oramai 20 anni fa. Non era semplicemente un amico, era un fratello. Il losso amore per gli amici, per noi, si legge nella nota, era una fonte di energia incredibile per tutti, una forza della natura che facevamo fatica a contenere. Ci pare impossibile che se ne sia andato di lui, ci manca già tutto. L'entusiasmo, la disponibilità smisurata, l'essere sempre pronto allo scherzo e alla giovialità, la sua allegria contagiosa, la sua incontenibile ed irrefrenabile intraprendenza. Emanuele Labbiso, invece, era per tutti noi come un figlio o un fratello più piccolo, uno dei ragazzi che abbiamo visto crescere, anzi, di quelli che conoscevamo già da prima che nascessero. Con noi, dice la Mogela, ha frequentato tutte le categorie della scuola calcio, è cresciuto qui mostrando da subito la sua educazione, la sua dolcezza, la sua disponibilità nei confronti degli altri. Ma in lui trovavamo anche tante affinità con Peppe, aveva la stessa capacità di sorridere, la stessa autorenia, la stessa grande voglia di giocare, stare con gli amici, vivere. È una doppia perdita che lascia in tutti noi un grande, enorme senso di vuoto. Facciamo fatica, dice ancora la Mogela, al momento a trovare altre parole. Peppe e Nele rappresentano dei pezzi di cuore che faremo di tutto per custodire e onorare. Abbiamo già in mente una serie di iniziative per ricordarli. Questo però è il momento del dolore e della tristezza. Ci manca già Peppe, amico di mille avventure. Ci manca già Emanuele, ragazzo splendido con una vita tutta da vivere strappata troppo presto da un destino che non potrà mai spiegare fino in fondo questa tragedia. Ci stringiamo ai familiari con l'affetto sincero di sempre. Ci uniamo al dolore di tutta la città che ha amato e continuerà ad amarli e li stringiamo con la mente e con il cuore e un abbraccio in cui si racchiudono tanti anni di amicizia vera, sincera, autentica. Ciao ragazzi, sarete sempre con noi. Emanuele Emanuele